Se devo arredare, da Mobiglia Megastore devo andare, perché lì trovo tutto, qualità, professionalità e convenienza. Cucina con elettrodomestici e la pastoviglia in omaggio a soli 1950 euro. Parete attrezzata da 2,70 metri con vano porta TV a soli 990 euro. Cameretta a ponte con tre letti e armadio, in vari colori, a soli 690 euro. Parete frassinata bianca con cassettoni e vano libreria a soli 790 euro. E solo adesso puoi pagare senza conto in 5 anni con prima rata dopo 6 mesi o in 48 mesi a interessi zero. E puoi avere in regalo divano letto o poltrono a letto, TV color da 26 vendici o un weekend emozione di sciargo. E se stai per sposarti, vieni a conoscere in anteprima il nuovo servizio Wedding by Mobiglia Megastore. Organizziamo noi il tuo matrimonio e paghi tutto a rate a interessi zero. Con Mobiglia Megastore, arredare e dire di sì è più facile. Ti aspettiamo tutti i giorni a Caserta Sud e Salerno Est.